Amici di Radio Roma Sport, buonasera da Alberto Fiano, immancabile appuntamento con Il Punto sulla Roma dopo Sassuolo-Roma del 26 ottobre del 2016. Che dire, una partita direi dai due volti, poiché nel primo tempo la Roma soffre un pochino, parte lenta, la manovra non è fluida, non ha intensità di gioco, mentre il Sassuolo sì. Questo almeno nei primi 15-20 minuti dove il Sassuolo trova anche il gol con il difensore partenopeo Paolo Cannavaro che smarcato solo in aria con un colpo di testa, complice anche un po' a una leggerezza difensiva di Fazio e Manolassa, insacca l'1-0 per il Sassuolo. La Roma poi da lì comincia a macinare il gioco e crea negli ultimi 20 minuti della prima frazione di gioco appunto quattro nitide palle gol, ma la fortuna si accanisce contro la Roma. Due traverse e due salvataggi sulla linea fanno sì che la Roma non pervena al pareggio che avrebbe ampiamente meritato. La ripresa invece, ovviamente il Sassuolo cala di intensità di gioco, complice anche le fatiche del doppio impegno campionato e Coppa europee, ma la Roma sale di tono e subito trova il giusto e meritato pareggio con Edin Dzeko, ancora una volta implacabile e ben servito da Salah, che in aria, se la porta sul sinistro e insacca con un potente diagonale, trafiggendo consigli. A questo punto la partita cambia di inerzia, la Roma comprende coraggio, il Sassuolo si disunisce un pochetto, si fa sempre più intensa la manovra giallorossa, tant'è vero che poi ancora un indomabile è ridivivo ed Edin Dzeko si fa conquistare un rigore con tanta capabilità e tigna, come si suol dire a Roma, che lui stesso lo trasforma con una botta imparabile sotto l'incrocio che piega quasi le mani a consigli, portando la Roma a 2-1 proprio sotto la curva dei tifosi giallorossi. Passano 180 secondi e la Roma ha una grandissima azione del Sciarau che se ne va sulla fascia, mette poi il cross al centro, para consigli e tappì il milicente di Raja, Nizia, che torna al gol anche lui, 3-1 a 12 dalla fine e partita in cassaforte per la Roma. Quindi veramente una prova di grande maturità della Roma, di grande carattere. Ancora una volta era chiamata a rispondere alla vittoria della Juventus, che già stava con il doppio vantaggio a Torino sulla Sampdoria, ma non si fa condizionare da ciò. Rimane fredda e lucida anche nei momenti dove giustamente ha sofferto, perché il Sassuolo è una signora squadra, e complimenti a Di Francesco, il campo del Sassuolo è un campo difficile per parecchie che ci sono stati a far visita, ma la Roma mantenendo sangue freddo e non disunendosi e continuando a far gioco ha fatto sua la partita e ha vinto con pieno merito, arrivando alla quarta vittoria consecutiva e mantenendo quella continuità di risultati che è fondamentale per puntare ai grandi traguardi. L'unica nota negativa purtroppo, e qua ce ne duole, è il fatto che Florenzi ha riportato un infortunio che ai noi sembra molto serio, dovesse essere così, sarebbe davvero una perdita molto molto importante per Spalletti, perché Florenzi sappiamo tutto quello che può dare e dove lo metti poi rende sempre al meglio. Quindi ci dispiace per Alessandro, abbracciamo con gioia il ritorno in campo di Rudiger, però la Roma mai può godere di una grande vittoria o di un grande successo a pieno, perché c'è sempre qualche piccolo neo che va ad intaccare questa soddisfazione e questa felicità. Bentornato Rudiger, un grosso in bocca al lupo da Alessandro Florenzi, domani ci saranno gli accertamenti del caso, speriamo nulla di grave, anche se la reazione anche di Florenzi è come uscito purtroppo ai noi, non lascia sperare a nulla di buono e niente, comunque la Roma ha vinto con pieno merito, la Roma è viva, la Roma tiene testa alla favoritissima Juventus e a meno due punti, stacca il Milan e seconda la sono in classifica e quindi ha fatto ampiamente il suo dovere e è andata a Sassuolo come avevo detto anche alla vigilia, facendo la Roma e quindi facendo la Roma ha vinto e questo è l'importante. Ora non mi resta che salutare il mio carissimo amico Guglielmo Timpano, conduttore della trasmissione Gioco Pericoloso in onda ogni giovedì sera dalle 21 alle 22 e 45 sul canale 15 del Digitale Terrestre, Teleroma 56, quindi domani mi raccomando seguitelo in diretta che è molto importante, rimando un saluto e un abbraccio agli amici di Teleroma Dolcredio, Andrea Materia e Fulvio Micozzi dove io ho l'onore e il piacere di essere speaker e opinionista ogni lunedì nella trasmissione SPQR in onda dalle 12 alle 14, mando un saluto anche a Roberto De Angelis che con il suo staff e Stefano Tini mi dà sempre anche lì l'onore e il piacere di partecipare il venerdì pomeriggio alla loro trasmissione questa è la Roma su RDA Radio 1, Radio Bomber, Step Radio e vedicendo, ricordo anche che Guglielmo Timpano è ideatore del primo News Aggregator, Audio Sport News, una radio sempre più in espansione anche lei e quindi ho ricordato tutte queste belle trasmissioni dove si parla giustamente di Roma e niente non mi resta che darvi la buonanotte, non potrebbe mai mancare il saluto alla mia carissima amica dottoressa Analisa Perruzzi, dottoressa in dizione in logopedia, bravissima cantante ed anche attrice teatrale, per chi fosse interessato a tutte queste sue materie può contattarla tramite la sua pagina Facebook, stavolta è davvero tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buonanotte, continuate a seguirci mi raccomando e chiudo con un Roma DAIE più che mai, ciao da Alberto Fiano e a presto a risentirci qui su Radio Roma Sport, buonanotte!